Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Vi è stato nei giorni scorsi un attacco ucraino con i droni nella regione russa dell'IPEC. Dunque la civiltà del Guito Zelensky sta colpendo la Russia. Ciò dovrebbe essere, io credo, rivelativo delle tendenze in atto. Quella che stiamo vivendo ormai dal 2022 non è la guerra della Russia contro l'Ucraina, come ripetono a tambur battenti i quotidiani, essendo invece la guerra che la civiltà dell'hamburger sta conducendo contro la Russia utilizzando come strumento l'Ucraina del Guito Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, l'attore più pagato di tutti i tempi potremmo anche dire. E adesso ne abbiamo la prova. L'Ucraina sta attaccando il territorio russo, con tutta evidenza, l'Ucraina non si sta difendendo ma sta attaccando la Russia. Quod erat demonstrandum, l'Ucraina viene utilizzata dalla civiltà del dollaro come bastione contro la Russia di Putin, d'altro canto l'Ucraina americanizzata non è se non l'ultimo stadio di un processo evolutivo o involutivo avviatosi fin dagli anni 90 quando la civiltà del dollaro prese a occupare un poco alla volta gli spazi dell'ex Unione Sovietica. Adesso con la vicenda del Guito Zelensky la vicenda giunge all'apice e si giunge in tal maniera allo scontro diretto fra Russia e Stati Uniti d'America.